Eccolo là, accolta. Salve. 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 Eh, come va? Bene. Eh, io dico che è veramente una gran bella giornata, vero? No, bellissima. Un po' caldo magari. Ho ragione. Se hai caldo con quel giubbetto, perché non provi questo? È l'ultimo grido. Ma non siete mica della neuro, per caso? No, no, no. Un momento, sono io che ho avvertito la polizia. Cosa? Il matto è quello. Tanto cielo, che armadio. È pericoloso. Ma che? È un agnellone. Solo che è perseguitato dai cessi. Dai cessi? Sì. Dice che dei cessi di oggi non ci si può più fidare e vuole farla finita. Misteri della psiche umana. Dammi il gas. E quello che è? Sonnifero. Una strussatina e si abbioccherà come un orso in letargo. Ah, bene. Lei resti qui, può essere pericoloso. Sì, sì. Salve. Salve. Bella città, vero? Eh, sì, bella, bella. Questa non è una città. Questo è un vero cessio. No, il signore ha ragione, è un vero cessio. Però io non lo vedo il paragone. I cessi di oggi sono dei capolavori di architettura. Questa città no davvero. Oh, magari fanno capolavori. Ma dov'è il piacere di un bel bisogno fatto in campagna alle Vardelstude? O al tramonto sulla riva di un placido fiume? Ah, ma i tempi sono cambiati. No, io non ho niente contro i cessi d'oggi. E lei, signore? No, neanche io. Io ce l'ho con gli stronzi come voi. Lei è un villano, è un affotale. Ehi, sento, puzza d'ospedale. Vuole provare questa giacca? Eh. Legatelo! Su, bisonte, salta in macchina. Perché non ha pulizionato? Ehi, tu, svegliamo. Ehi, tu, svegliamo.